Nella Stellantis Brand House di Milano è stato inaugurato il primo showroom Lancia con la nuova Corporate Identity. L'obiettivo si pone di collocare il cliente al centro dell'attenzione, fornendogli un'esperienza premium e immersiva alla scoperta della visione sulla mobilità del futuro, in piena sintonia con i valori del marchio. Il nuovo Concept Store è impreziosito dal grande totem verticale su cui campeggia il nuovo logo Lancia, simbolo della nuova era del marchio e vettore del suo ingresso nella mobilità elettrica. L'accostamento tra tonalità chiare e scure, abbinato all'impiego di materiali preziosi, esprime perfettamente la premiumness del marchio, assimilando al contempo lo showroom ad un'autentica ed esclusiva dimora italiana. Il futuro di Lancia è già iniziato! Vieni a scoprire il nuovo showroom con la nuova gamma Lancia Ypsilon, disponibile in fronta consegna. Ti aspettiamo da Stellantis & You Milano, in via Gattamelata 41.